Ognuno diceva la sua, ognuno andava a spendere tanti di quei soldi, ma in breve tempo non ho mai risolto il problema. Nel mio caso ho avuto tanti problemi, tanti problemi nei denti, nel mio stomaco e soprattutto anche nel mio lavoro. Nel mio lavoro consiste che sto a contatto con i clienti, con tanta gente e non sono mai riuscito a cavare piedi con i dentisti. Ognuno diceva la sua, ognuno andava a spendere tanti di quei soldi, ma in breve tempo non ho mai risolto il problema, quindi sono rimasto senza denti. Ho provato a chiedere un po' in giro e fare anche tanti di quei preventivi, però questi preventivi erano fuori dalla nostra portata, perché anche noi siamo dei lavoratori e quindi abbiamo delle difficoltà. Nel cercare, nella disperazione soprattutto, nel cercare qualcuno che ci possa mettere delle mani, sia me che mia moglie abbiamo avuto sempre, tra virgolette, di questi problemi. E anche un po' di fortuna nel cercare nel telefono qualcuno che ci possa dare una mano. Abbiamo trovato la clinica del dottor Palmas, che anche lui è, anzi, l'ho anche conosciuto, una brava persona, gentile e anche disponibile, con tante domande fatte e tante belle risposte. Ho trovato un'accoglienza ancora più forte con tutti i dottori, con tutto il personale che c'è dentro la clinica. Ho messo i denti fantastici e soprattutto ho incominciato anche a sorridere, avere anche un buon umore. Adesso in avanti penso di affrontare una vita migliore di quella che stavo facendo. Affronterò i miei clienti con un sorriso. Non vedo l'ora anche di tornare e di far vedere alla famiglia i nuovi denti e un nuovo sorriso.